Rossini TV accende le sue telecamere questa mattina venerdì 25 novembre a Fano sul lungomare di Sassogna. Ci troviamo con alle nostre spalle la passeggiata dell'Elsippo e alla nostra destra i bagni Carlo. Qui si vedono i segni tangibili dell'erosione del mare, delle recenti mareggiate che hanno davvero divorato gran parte del litorale. Vedete alle mie spalle la prima curva della scogliera, la ghiaia, la spiaggia qui del litorale arrivava fino a quel punto e ora si è ridotta davvero a pochissimi metri. Una situazione che viene denunciata a chiare lettere oggi dal gruppo della Lega di Fano. Questa è una problematica che viene da lontano e viene per quello che è stato fatto in maniera pressapochistica e a volte solo dedicata ai proclami. Perché si è partiti con dei lavori che hanno riguardato una parte della spiaggia, hanno iniziato a proteggere una parte della spiaggia, ma hanno poi aggravato il resto della situazione. Mancava piano piano, mancava solo un ultimo tratto. Si era detto che si sarebbe stato fatto quest'estate, anzi si doveva fare l'anno scorso. Si era detto con tanto di video che sarebbe stato dall'assessore fatto quest'estate. Siamo oggi il 25, domani il 26 di novembre arriverà un'altra perturbazione, quindi ci troveremo a parlare un'altra volta di spiaggia ancora mangiata e di danni e non è stato fatto niente. Matteo Renzi è di fatto la testimonianza diretta di quello che mese dopo mese è accaduto qua, anche sul numero di file di ombrelloni che si riuscivano a mettere, quelle che si è cominciate a contrarre e quelle che ormai sono quasi da contare neanche sulla ditta di una mano. Siamo passati da circa 11.000 metri quadri di spiaggia a sotto 3.000 metri, senza contare poi tutte le zone non utilizzabili e non abbiamo più di 15-20 metri dalle strutture. Ogni mareggiata il mare continua a farci danni, quindi arriva nelle piscine, nelle strutture, nei capanni, nei campi da beach volley, nei sintetici, quindi gli investimenti fatti negli anni. Ogni mareggiata ce li distrugge, per cui non sappiamo più come fare. Purtroppo questa è una cosa che va avanti da ormai quattro stagioni, ma da due in maniera quasi eccatante. Noi non sappiamo più a chi appellarci, perché sappiamo da anni che comunque è tutto pronto, i soldi ci sono, i progetti sono pronti, li abbiamo anche visionati, quindi sappiamo che è tutto lì, ma non sappiamo perché c'è questo tipo di stallo, siamo disperati. Non solo la denuncia, anche una interrogazione urgente in Consiglio Comunale. Vogliamo sapere a questo punto delle risposte. Tra l'altro questa è una questione che non sta riguardando solo uno stabilimento balneare, per quanto grave, perché comunque impiega oltre a chi ha la proprietà, ma anche impiega 20 famiglie, per cui c'è anche una situazione lavorativa. Sta riguardando la città, perché abbiamo un rischio concreto che la passeggiata dell'Elisippo vada giù, con infiltrazioni che già si ripercuotono anche sugli stabilimenti produttivi che sono alle spalle della passeggiata. E come detto, non c'è solo litorale, l'erosione mette in serio pericolo anche la passeggiata dell'Elisippo, un patrimonio da salvaguardare per la quale si interessa anche la Regione Marche, nella persona di Luca Serfilippi. Noi come Regione Marche abbiamo investito e investiremo più di 5 milioni di euro sul litorale fanese, però in alcune occasioni, ad esempio all'apertura dei bandi, il Comune di Fano o ha sbagliato la PEC o l'ha inviata troppo tardi, quindi di fatto ha rischiato anche di perdere importanti finanziamenti. C'è la disponibilità a collaborare, sappiamo che ad esempio su altri punti del lungomare, come a Ponte Sasso, non c'è nemmeno un progetto, quindi non c'è stato inviato nulla. Chiediamo all'amministrazione comunale, anche con questa interrogazione, una programmazione per tutto il lungomare fanese, quindi quello che serve si faccia. Qui in questo caso a Sassonia invece c'erano i soldi, tutto quanto, è dal 2015 che stanno facendo i lavori su queste scogliere e quando tu non completi un lavoro si crea il danno che stiamo vedendo alle nostre spalle. Quindi chiediamo un intervento immediato, urgente, per sapere quando iniziano i lavori e quando termineranno, perché qui a rischio ci sono 50 posti di lavoro e un danno di immagine importante per tutta la città di Fano.